Domenica 5 dicembre sono stati rilevati 248 nuovi casi di covid in Puglia su 19.343 test. Nessun decesso è stato registrato. In provincia di Bari sono stati 58 nuovi casi, in provincia di Foggia 93, in provincia di Bat 34, in provincia di Lecce 25, in provincia di Brindisi 28, in provincia di Taranto 10. A Lucera sono 37 i cittadini contagiati dal virus, secondo il bollettino epidemiologico diffuso il 3 dicembre, e una persona è ricoverata. Sale a 4.600 il numero delle persone attualmente positive al covid in Puglia, 139 sono ricoverate in area non critica e 21 si trovano in terapia intensiva.